Quattordicesima edizione per la mossa dei trattori d'epoca a Savignano sul Rubicone. Anche quest'anno l'appuntamento è stato fissato per giovedì 1 maggio in Via della Pietà presso il piazzale Scrigno. Noi siamo qua da due giorni, speriamo che venga tanta gente, visto i sacrifici e la fatica che facciamo. Abbiamo la musica il pomeriggio e facciamo la trebbiatura nelle 4 e mezza, 5. Accendiamo i mesi, però non li spostiamo, li teniamo fermi anche per motivi di sicurezza. e speriamo che venga tanta gente per la soddisfazione, almeno che riesca bene la festa. Nella nostra mostra più che altro si vedono dei modelli che magari in altre mostre sono più rari, più difficili da trovare, oltre che non perché sono macchine mie e di mio babbo, insomma che sono restaurate in una certa maniera che in altre manifestazioni non si vedono belli come i nostri, oltre che particolari. Sono tra l'altro tutti i trattori funzionanti? Sì, le macchine che abbiamo qua sono tutte funzionanti, tranne un angolino che abbiamo delle macchine appena portate a casa che sono ancora da restaurare, però vanno tutti, sono tutti da poter operare.